E' una camontella che non vuole fermarsi. Le ragazze di Guadalupi cercano l'undicesimo risultato utile e consecutivo. Già come le compagne saranno impegnate contro la Volley Group Roma, le giallonere sono reduci dell'importante quando difficile vittoria contro la Giovo Valle Aprilia. Successo che ha regalato all'Erpine la quarta piazza in classifica, in piena zona playoff, a sole quattro distanze dalla prima della classe Santa Teresa. Un gruppo, quello guidato da Cavaioli, che non va sottovalutato una partita da affrontare con la massima concentrazione. Come ha affermato il coach dell'H, Dino Guadalupi. E' una squadra, anche questa, in crescita su alcuni aspetti del gioco. E' una squadra molto giovane ma fisicamente dotata, che gioca questo campionato senza pressione, quindi con lo spirito di raccogliere il più possibile in ogni gara. E viene anch'essa da due risultati molto positivi. Uno, tra l'altro, contro Casal De Pazzi, quindi una vittoria molto importante per loro. Uno scontro diretto a Castelvetrano chiuso in maniera brillante. Quindi noi andiamo in casa da loro e ci aspettiamo un'altra battaglia. Chiaramente potremmo, abbiamo le possibilità di far valere contro questo tipo di squadre maggiormente la nostra maggiore esperienza generale. Però bisogna essere molto lucidi e in grado di farlo. Con la stessa lucidità che la contraddistingue in campo, anche Francesca Saveriano dice la sua su questo match. Si può sempre fare meglio e ce lo dice anche il fatto che restiamo a quattro punti soltanto dalla prima in classifica. Il campionato e la classifica sono ancora nettamente aperti. Quindi noi faremo di tutto per raggiungere il miglior risultato possibile e mantenere una posizione di vertice. Sicuramente dovremo scendere in campo con una grossa dose di determinazione, tenendo bene a mente tutto ciò che è stato affrontato durante la settimana in palestra per preparare questa partita. Ci troviamo di fronte ad una squadra giovane, ma ben organizzata, soprattutto fisicata. E quindi noi dobbiamo mettercela tutta per portare a casa il risultato, se possibile, a pieno punteggio.